Anche presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro è stato celebrato il 247esimo anniversario di Fondazione del Corpo. Alla presenza del vice prefetto di Nuoro, Luca De Sì, e del comandante provinciale, il colonnello Alessandro Ferri, è stata deposta una corona dall'oro ai piedi del monumento intitolato al finanziere Raimondo Falqui, in memoria di tutti i finanzieri caduti nell'adempimento del proprio dovere. La cerimonia è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio sul lavoro svolto dai finanziari del comando provinciale di Nuoro. Nel 2020 sono stati eseguiti 2.633 interventi ispettivi e 592 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile. Il contrasto all'evasione fiscale ha consentito di denunciare 6 soggetti e di individuare 7 evasori totali. Sono stati eseguiti 51 interventi tra verifiche e controlli che hanno portato alla constatazione dei ricavi sottratti al fisco per circa 2 milioni e mezzo di euro, un'evasione dell'IVA per circa 200 mila euro. Inoltre sono stati effettuati i sequestri patrimoniali per circa 750 mila euro. Le fiamme gialle hanno individuato 16 lavoratori totalmente in nero e 3 lavoratori irregolari. Nel settore delle accise e sui prodotti energetici sono stati eseguiti 16 controlli e verifiche. La Guardia di Finanza di Nuoro ha dedicato nel corso del 2020 10 piani operativi al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica. In questo campo l'azione svolta dai finanzieri ha consentito di verbalizzare i due soggetti che avevano percepito richiesto illecitamente finanziamenti pubblici per oltre 70 mila euro. Sono stati effettuati 75 controlli su ticket sanitari e su prestazioni sociale agevolate che hanno permesso di individuare 44 opposizioni irregolari, 43 gli interventi in materia del reddito di cittadinanza, 23 dei quali risultati irregolari. Sul fronte del monitoraggio della criminalità sono stati effettuati 10 accertamenti patrimoniali. Sono stati eseguiti 22 tra approfondimenti e segnalazioni di operazioni sospette, ispezioni e controlli anti-riciclaggio. I militari altamente specializzati dal soccorso alpino della Guardia di Finanza della stazione di Nuoro sono intervenuti per l'attività di soccorso e per l'attività di ricerca di persone scomparse.